ben così insomma ma ti piace come come modulazione questa massimo cioè più che altro è semplice normale tranquilla beh questo qui ha solo ampiezza modulata e solo ampiezza modulata non è una brutta radio se consideriamo l'età che ha io adesso non lo so di quando sia però credo che sia una radio degli anni 70 se non erro cioè l'alan k 350 bc chissà quante ore ha fatto accesa per quello è abbastanza carina i comandi che ha sono sempre i soliti volume squelce tono il delta tune cioè alla fine si per quello che è non è male insomma non è male è una cosa bellissima vederla che funziona invece bene 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 ok ok